Stamattina a Lodine è il primo dei tre incontri territoriali importantissimo per il Fondo per lo Sviluppo dei Comuni Montani, il FOSMIT. 11 milioni, oltre 11 milioni di euro ottenuti per progetti di valorizzazione del territorio e dell'ambiente di Comuni Montani, partendo da Lodine, seguendo con Cuglieri e poi finendo con Berchida. Questi tre incontri che vede la presentazione di un bando che avrà scadenza l'8 settembre, che permetterà ai Comuni Montani e Parzialmente Montani, attraverso un percorso seguito dall'Unione dei Comuni Montani e Parzialmente Montani italiani, di presentare dei progetti soprattutto volt a settori quali la creazione di reti di green economy, soprattutto sull'agropastorale a tutela della biodiversità. Pensiamo infatti che questi progetti siano progetti volti al mantenimento, a incentivare la residenza dei loro abitanti e non l'immigrazione invece verso i centri più grossi.